Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Deslok e questa settimana vi presento il video Best of the Week 4. Spero che il video vi piaccia, scusate il ritardo se alcune settimane sono state esaltate per impegni lavorativi. Se il video vi piace mi raccomando non dimenticatevi di lasciarvi un like e iscrivetevi al canale. Buona visione, ciao! Ah sì, sono due, sono due. Ecco l'ho sopra il tetto, preso. E' una bombossa, tira su. Bravo! Eccolo, mi ha visto! Addirittura. Bravo? Sì, lo qua. Pensavo che sono tutte e due quale. Eccolo, mi ha visto. E' sopra, ecco, sono morto Ma che ne vede Se non mi copri, mi ammazza questo E io, se ne ho due, mi stanno andando a cercare Che c***o, che c***o Uno è noccato per c***o Bravo, hai visto Ecco lì, vedi Mamma mia che lì, ho preso Ho venuto, ho venuto Mamma mia che ho fatto Che è? Io, io, ah c***o, dai, dai Aspetta, mi metti dentro l'arbero e spariamo Aspetta, non c***o Aspetta, non c***o Perfetto, tutti morti Perfetto, tutti morti One is done Lui ti ha sparato da su, no? Può essere Eccolo Mamma mia Mamma mia, ma che è? 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 Ahahahah Ahahahah Gli avete rito il c***o Ahahahah 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 Eccoli, uno su, già da corre Troccato 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 Mamma mia, molta gente c'è qui sotto a testa, raga Bravo, giù Eccoli Sai